La presenza austriaca a Expo Milano 2015 porta a Milano un padiglione come centrale di produzione di ossigeno quindi sotto il tema Brief Austria abbiamo portato qua 560 metri quadri di vegetazione boschiva quindi una vera e propria foresta austriaca che produce ossigeno, quindi aria fresca per 1800 visitatori all'ora e parliamo dell'aria come alimento principale dell'uomo quindi l'uomo che può sopravvivere senza cibo per 5 settimane, senza acqua per 5 giorni ma senza aria, nemmeno 5 minuti e questa è l'idea che sta dietro il concept e che ha appunto ispirato gli ideatori del team Brief Austria di portare qua questo bosco astriaco Qui invece ci troviamo all'interno del nostro bosco non solo si presenta come luogo magico come di fare la camminata in un vero bosco astriaco ma all'interno del padiglione si crea una sorta di performance climatica che vuol dire che grazie alla superficie foliare di 43.000 metri quadrati si crea all'interno un clima confortevole per il visitatore quindi abbiamo un effetto benefico di 5 gradi in meno misurati rispetto all'esterno e una esperienza sensoriale del visitatore, quindi una temperatura sentita sulla pelle addirittura di 10 gradi in meno e quindi il padiglione si presenta come prototipo di architettura verde per ambiti urbani dove appunto questa idea di integrare questi spazi verdi concentrati su una superficie piccola potrebbe essere riproposti anche nella pianificazione urbana di nuove città e in più tutto il padiglione non ha un impianto di condizionamento ma abbiamo questi tubi neri all'interno del bosco che aspirano l'aria fresca e profumata di bosco e la trasportano all'interno degli spazi del padiglione quindi il padiglione si presenta proprio come una oasi dove il visitatore può rifrescarsi respirare all'aria fresca e profumata di bosco e gustare qualche snack del bosco al nostro bar Grazie a tutti